Prima Palazzo Nobileare, poi albergo e sede dell'APT. Ora Palazzo Vestri, nel centro storico di Prato, è stato trasformato in una scuola. Da settembre 250 ragazze dell'Istituto Dagomari saranno trasferiti in Piazza del Duomo per permettere i lavori di adeguamento antisismico alla sede centrale del pollo scolastico di Via Reggiana. Ci organizziamo portando qui le classi del triennio, i ragazzi più grandi, l'indirizzo dei sistemi informativi aziendali più un altro indirizzo che individueremo ora a breve. Essendoci i servizi informativi aziendali è necessario avere due laboratori attrezzati con i computer. Per quanto riguarda il personale ATA abbiamo chiesto personale ATA aggiuntivo, ora vediamo quali saranno gli esiti delle scelte dell'ufficio scolastico territoriale. Il trasloco è iniziato, alcune aule sono già state allestite con banchi e lì. La provincia ha assiclato un accordo con la proprietà dell'ex Stella d'Italia per un contratto di affitto di sei anni rinnovabili, mentre l'affido al Dagomari è valido per 12 mesi, nonostante il cantiere nella sede centrale durerà fino al 2024. Perché ovviamente ci sarà la necessità di verificare anche col cronoprogramma dei lavori, quelle saranno le necessità successive, questo tipo di flessibilità garantisce a tutti la possibilità di un migliore utilizzo di quelli che sono gli edifici e gli spazi a disposizione. Oltre alle aule e ai bagni sono previsti due laboratori, la sala professori e una polivalente. Mentre per l'attività di educazione fisica, lo storico convitto Ciconini, che dista poche centinaia di metri, ha messo a disposizione la sua palestra.